In cinque anni, tra il 2007 e il 2012, il Paese conta 323.000 occupati in meno, ma a fronte di un calo di 1.155.000 italiani, gli stranieri al lavoro aumentano, 823.000 in più. Formalmente frenano l'emorragia occupazionale, ma non l'emergenza determinata dalla crisi. Lo confermano i dati Istat. Il crollo dell'occupazione negli ultimi cinque anni riguarda soprattutto il Sud, con 336.000 lavoratori in meno. Interessa nel meridione soprattutto gli uomini, i giovani tra i 25 e i 34 anni e il settore industriale. Come se non bastasse, le scadenze fiscali di giugno potrebbero fare entrare in stallo le piccole imprese, spingendo in caduta libera i dati sull'occupazione, portando a morte certa migliaia di aziende. Lancia l'allarme la CGA di Mestre, con l'ennesimo studio. Nel 2012 un boom di protesti e di sofferenze ha messo in forte difficoltà le piccole e medie imprese. Almeno una piccola impresa su due è costretta a rateizzare le retribuzioni ai propri collaboratori, spiega Giuseppe Bortolussi, segretario della CGA di Mestre. Le imprese fanno sempre più fatica a onorare assegni, cambiari, tratte. I protesti sono in forte aumento. Per l'ufficio studi della CGA di Mestre, dall'inizio della crisi i titoli di credito senza copertura alla scadenza sono cresciuti del 12,8%. Le sofferenze bancarie delle aziende, con meno di 10 addetti, il 95% sul territorio nazionale, registrano una serie impennata, più 165%. Alla fine del 2012 l'ammontare complessivo delle insolvenze supera i 95 miliardi di euro. L'aumento dei protesti bancari con il calo del fatturato e il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione mandano in rosso i conti correnti di molti imprenditori. Le scadenze estive potrebbero avere un effetto esiziale sul loro destino.